E' con grande piacere che saluto il ritorno di Alfonso Chiarenza e della sua azienda SicurBagno e saranno loro a darci tutte le indicazioni e suggerimenti per risolvere al meglio e con la maggiore sicurezza il benessere nel bagno. In questa pagina Alfonso che cosa troveremo? Quali novità ci sono? Grazie Riccardo, sei sempre gentilissima. Le novità ce ne saranno tantissime perché ci occuperemo di risolvere i problemi delle persone a 360 gradi dall'aiuto che viene dato dallo Stato ai problemi tecnici che si possono incontrare. Quindi una persona che si rivolge a te dall'inizio alla fine avrà il lavoro completo senza doversi preoccupare di nulla. Completo a 360 gradi. E questa è una cosa importante per le famiglie oltre a scegliere avere anche chi ti segue da questo punto di vista. Poi ci saranno delle novità sugli articoli e su tutto. Certo, quindi noi ci fidiamo di te Alfonso perché tu sei stato uno dei primi partner di Ability Channel a credere nella bontà del nostro lavoro. Quindi seguite attentamente questa pagina dove avrete tutte le indicazioni per rivolgervi ad Alfonso Chiarenza alla SicurBagno e mi raccomando ci sono delle novità veramente importanti, quindi continuate a seguirci.